C'è qualcosa del tuo passato che ti lega a questo posto? A che ora vai al lavoro, direttrice? Nel primo pomeriggio. Ti amo. Mi dicevi oggi per telefono che comincia a lavorare? Sì. Sei la vecchia clinica psichiatrica, no? Esattamente. Ho trovato una lettera di mio padre nella scatola delle foto. Mi chiedeva di perdonarlo. Diceva di aver fatto del male in passato. È da un po' che la vedo così presa dai suoi incubi che a volte Temo ci creda veramente. Michela ha avuto un passato difficile. Tu non mi credi. L'ho vista diversa dal solito. Più assente. Io conosco una persona che può aiutarti. Dammi la mano. Sei la figlia di Maria Sini. Io ero piccola. Dissero che mia madre si era suicidata. Qui non ci viene più nessuno. Dopo tutto quello che è successo. Scusa, ma chi è? La segretaria di mio marito. E tu lasci che una donna come quella giri intorno ad Andrea? Devo imparare a fidarmi. Io temo che quello che ti stia perseguitando sia una donna nativa. Lei ha preso il tuo sangue e così ha reso la tua anima più vulnerabile. Andrea si è dimenticato la sua camicia a casa mia. Prendi quest'ora e tienilo sempre con te. Lei ti attaccherà di notte. Ma che vorrà mai Liliana da te? Stai attenta. Se riuscirei a superare la mezzanotte, lei non potrà più prendere la tua anima. Eppure non è del buio che bisogna avere paura.